Venerdì 28 settembre torna a Siena Bright la notte dei ricercatori. I ricercatori delle università di Siena e delle università per stranieri di Siena scenderanno nuovamente nelle vie della città per incontrare i cittadini e tutti i visitatori per farli conoscere meglio i risultati del loro lavoro, per ascoltare da loro con le loro parole pieni di entusiasmo e di passione perché i risultati della loro ricerca sono così importanti per l'avanzamento della nostra società. Sarà nuovamente un'occasione di coinvolgimento di tutta la città nei confronti dei propri ricercatori e del lavoro che si svolgono.